Ciao e bentrovato sul canale Il Segreto del Samadhi. Ogni religione è caratterizzata da un insieme di credenze, precetti e pratiche che nelle intenzioni si rivolgono ad un'entità superiore. Buddha rappresenta il più alto obiettivo verso cui indirizzare la propria vita. L'illuminazione può accadere in modo fulmineo. Questo potere di rinnovamento trattato nelle storie che ascolterai avviene per grazia, non per logica. Il contenuto di oggi è dedicato a racconti di relazioni, narrati tra antichi maestri cinesi e i loro allievi. Il fine era quello di trascendere il dualismo, l'esteriorità e l'influenza del raziocinio, cosicché gli studenti potessero realizzare la loro vera natura e arrivare alla scoperta del proprio essere. Una prima parte del video è formata da una serie di koan, ovvero di sfide interiori o problemi, raccolti nell'opera di Mumon, La porta senza porte, dal carattere disorientante e meditativo. Si tratta di storie brevi, accompagnate da un commento dell'autore, spesso sarcastico, ed alcuni versi. Il titolo deriva dal fatto che le parole di Buddha hanno lo scopo di illuminare gli altri, per questo lo zen deve essere senza porte. La seconda parte del video, invece, è tratta dal libro 101 storie zen. Occasionali casi di apparente violenza potrebbero essere meglio interpretati come vigore e serietà. Di fatto, lo zen non può essere compreso attraverso le spiegazioni di altri, né può essere colto solo con la mente. Al contrario, va sentito con tutta la propria essenza, superando così determinati limiti mentali e giungendo ad una seconda nascita, l'illuminazione satori. Iniziamo! Un monaco chiese a Joshu, un maestro zen cinese, se esistesse un cane con la natura di un Buddha. questi rispose Mu. Per padroneggiare lo zen bisogna oltrepassare la barriera dei patriarchi. Se non lo si fa e non si elimina il vecchio modo di pensare, allora si rischia di essere come un fantasma che si aggrappa ai cespugli e alle erbacce. La barriera dei patriarchi è la Mu, facuità, che è l'antiporta per lo zen. Se si passa attraverso di essa, non solo si vedrà Joshu faccia a faccia, ma si andrà di pari passo coi successivi patriarchi. È necessario concentrarsi sul termine Mu continuamente. Tutte le idee illusorie e i pensieri ingannevoli finora accumulati saranno annientati. E quando sarà giunto il tempo, l'interno e l'esterno saranno spontaneamente riuniti. Solo tu lo riconoscerai, come un sogno che non può essere riferito a nessuno. Poi, all'improvviso, avverrà un'esplosiva conversione e infine comanderai in perfetta libertà. Sarai come un grande guerriero con una spada affilata. Se qualcuno si mette sulla tua strada, lo abbatterai, che sia un Buddha o un patriarca. Quando entrerai in questo mondo, non ci sarà alcuna interruzione. Il tuo raggiungimento sarà come una candela che brucia e illumina l'intero universo. Quando Yakujo teneva alcune conferenze zen, un vecchio vi assisteva senza essere visto. Un giorno rimase, dopo che tutti i monaci se erano andati, e venne notato. Il maestro gli chiese chi fosse, e lui rispose. Non sono un essere umano. Nell'antichità ero un capo monaco, e vivevo qui, su questa montagna. Alla fine di una lezione, uno dei miei studenti mi chiese se l'uomo illuminato fosse soggetto o meno alla legge di causalità, e io gli risposi di no. Per questa risposta, che dimostra un attaccamento all'assolutezza, sono stato condannato a rinascere 500 volte come una volpe, e lo sono ancora. Puoi salvarmi da questa condizione con le tue parole zen? Il maestro disse. L'uomo non può ignorare la legge di causalità. In quel momento, il vecchio fu illuminato. Sono finalmente libero, esclamò, rendendo omaggio con un profondo inchino. Me ne resterò su questa montagna. Ma ho ancora un favore da chiederti. Seppellisci il mio corpo, come quello di un monaco morto. Il giorno dopo, Yakujo diede l'ordine ai seguaci di prepararsi a partecipare al funerale di un monaco. Li condusse in una grotta della montagna, tirò fuori il cadavere di una vecchia volpe, ed eseguì la ceremonia di cremazione. Quella sera, il maestro tenne un discorso ai monaci, e raccontò la storia sulla legge di causalità. Uno di loro, Obaku, chiese. Ma se il monaco che è stato condannato a rinascere come una volpe, avesse dato la risposta corretta, cosa sarebbe successo? Yakujo rispose. Vieni qui vicino a me e te lo dirò. Lui si avvicinò e si circondò le orecchie con le mani. Il maestro, ridendo, esclamò. Pensavo che il barbaro avesse una barba rossa, e ora ce l'ho di fronte. Come può questa risposta rendere la volpe libera? Per capirlo bisogna avere un solo occhio. Lo stesso dado mostra due facce, controllato e non controllato, e sono entrambe un grave errore. Quando a Gutei veniva posta una domanda sulla pratica zen, lui semplicemente sollevava il dito. Una volta, un visitatore chiese al suo attendente che cosa insegnasse il maestro. Il ragazzo, imitandolo, sollevò subito il suo dito. Vedendo ciò, Gutei glielo tagliò e il giovane cominciò a fuggire in preda al dolore. Il maestro lo chiamò e gli sollevò il dito. In quel momento l'allievo fu improvvisamente illuminato. Tempo dopo, quando Gutei stava per morire, disse ai suoi seguaci. Io ho ricevuto un unico dito zen dal mio insegnante e l'ho usato per tutta la mia vita, ma non sono riuscito a renderlo fiero. Poi morì. L'illuminazione che Gutei e il ragazzo ottennero non ha nulla a che fare con il dito. Chiogon affermava che lo zen è come un uomo appeso ad un albero per i denti, sull'orlo di un precipizio. Le sue mani non afferrano nessun ramo, i suoi piedi sono privi di sostegno, mentre c'è una persona che gli chiede perché Bodhidharma sia venuta in Cina dall'India. Se l'uomo sull'albero non risponde, fallisce e se risponde cade e perde la vita. In una tale situazione l'eloquenza più talentuosa non serve a nulla e nemmeno l'aver memorizzato tutti i sutra. Se sei capace di dare la risposta giusta, anche se la tua strada passata era di morte, aprirai un nuovo sentiero di vita. In caso contrario, devi attendere il futuro Buddha e chiedere a lui. Un monaco disse a Joshua, sono appena entrato nel monastero, ti prego di insegnarmi. Quest'ultimo chiese, hai mangiato il tuo porridge di riso? Alla risposta affermativa dell'altro, il maestro sentenziò, allora è meglio che lavi la tua ciotola. In quel momento il monaco ebbe l'illuminazione. Non è certo che l'allievo abbia davvero visto il cuore di Joshua, scambiando una cosa per un'altra. Gaetan disse ai suoi studenti, Kei Chu, il primo costruttore di ruote della Cina, ne realizzò due di cinquanta raggi ciascuna. Ora, supponiamo di togliere ad un carro sia le ruote che l'asse, cosa ne rimarrebbe? Per Mumon, se qualcuno può rispondere a questa domanda all'istante, i suoi occhi saranno come una meteora e la sua mente come un lampo. Quando la ruota spirituale gira, nemmeno il maestro può fermarla, perché essa gira in tutte le direzioni. Un monaco chiese Ho saputo che un Buddha, vissuto prima della storia documentata, si è seduto in meditazione per dieci cicli di esistenza, ma non è mai riuscito a realizzare la verità più alta. Quindi non si è potuto liberare completamente. Visto che meditava, perché non poteva realizzare la buddhità? I saggi risposero semplicemente che non era un Buddha. La vicenda si può spiegare con la frase «permetterò la sua realizzazione, ma non ammetterò la sua comprensione». Quando un ignorante raggiunge la realizzazione, è un santo. Poi inizia a capire che è meglio realizzare la mente invece del corpo, perché quando la prima è realizzata, il secondo segue. E quando questi due elementi diventano una sola cosa, l'uomo è libero e perciò non desidera elogi. Tokusan si recò nella sala da pranzo con in mano la sua ciotola. Fu intercettato da Seppo, che gli chiese «Il tamburo per la cena non è ancora stato battuto. Dove stai andando con la tua ciotola?». Quando l'altro tornò nella sua stanza, Seppo raccontò il fatto a Ganto, che si intenziò. «Il vecchio Tokusan è famoso, ma non conosce la verità ultima». L'interessato venne a conoscenza delle parole di Ganto e lo affrontò. «Ho sentito che tu non mi approvi». Ricevette un'ammissione silente dall'interlocutore e si allontanò. Il giorno seguente tenne un tipo di lezione completamente diversa e i monaci risero e applaudirono. Anche Ganto ne fu entusiasta, al punto da complimentarsi con lui per aver imparato a dire la verità ultima. Un giorno, Nansen vide i monaci delle sale orientali e occidentali litigare per un gatto. Quindi prese il felino e disse «Se qualcuno di voi dirà una buona parola, potrà salvarlo». Nessuno rispose e lui tagliò l'animale in due pezzi. Quella sera, Nansen raccontò l'accaduto a Joshua, che era appena tornato al monastero. Quest'ultimo si tolse i sandali, se li mise in testa e se ne andò dicendo «Se tu fossi stato lì, avresti potuto salvare il gatto». Perché Joshua si è messo i sandali in testa? Se qualcuno risponde a questa domanda, capirà perché Nansen ha parlato in quel modo per far rispettare l'editto, se no avrebbe dovuto guardarsi le spalle. Se Joshua fosse stato presente, avrebbe fatto rispettare l'editto in modo opposto. Avrebbe sfoderato la spada e Nansen avrebbe implorato per la propria vita. Dozan si recò a studiare da Unmon, che gli chiese in che tempio fosse rimasto per l'estate. «Ero al monasterio di Hosu», gli rispose. «E quando sei andato via di lì?», incalzò l'altro. «Il 25 agosto». A quel punto Unmon disse «Avrei dovuto darti tre colpi di bastone, ma oggi ti perdono». Il giorno dopo, Tozan gli chiese «Ieri mi volevi picchiare, ma non so perché pensi che io abbia sbagliato». Unmon, rimproverando le risposte prive di spirito che aveva ricevuto da lui, sbottò. «Non sei buono a nulla, non fai altro che vagare da un monastero all'altro». Tozan fu illuminato da quel commento. Se Unmon avesse incoraggiato Tozan a sviluppare un attivo spirito Zen, la sua scuola non sarebbe declinata come poi avvenne. L'allievo ebbe una tormentata lotta durante tutta la notte, perso nel mare di giusto e sbagliato. Giunse ad un vicolo cieco e all'alba si recò dal maestro, che gli costruì di nuovo un retratto di Zen. Anche se Tozan fu direttamente illuminato, non era brillante. Si sarebbe meritato le tre bastonate? Se sì, bisognerebbe ammettere che tutto l'universo dovrebbe essere colpito. Se no, si accusa Unmon di mentire. Una volta Unmon chiese «Il mondo è così vasto, perché rispondi ad una campana e indossi abiti cerimoniali?». Secondo il commento di Mumon, quando si studia lo Zen non c'è bisogno di seguire il suono o il colore o la forma, anche se alcuni hanno raggiunto l'intuizione in questo modo. Nonostante sia una modalità comune di studiare, non si tratta del vero Zen. L'autentico studente Zen, infatti, controlla il suono, il colore e la forma e attualizza la verità nella sua vita quotidiana. Quando Tozan stava pesando del lino, un monaco gli chiese «Che cos'è Buddha?». Lui rispose «È tre libri di lino». La risposta è misteriosa come il suo significato. Chiunque parli di affermazioni e negazioni vive nella regione giusta o sbagliata». Joshua chiese «Cos'è la via? Si può studiare?». Nansen rispose «È la vita di tutti i giorni e se cerchi di studiarla sarai lontano da essa». Joshua allora domandò «Ma se non la studio, come faccio a sapere che cos'è?». L'altro spiegò «La via non appartiene al mondo della percezione né al mondo della non percezione. Conoscere è illusorio e non conoscere è confusione. Se la raggiungerai realmente, ti apparirà vasta e illuminata. Come si può parlarne a livello di giusto e sbagliato?». Joshua fu illuminato da quelle parole. Quando si emancipò, il sesto patriarca ricevette dal quinto la coppa e la veste donate dal Buddha ai suoi successori. Un monaco di nome mio, per invidia, cercò di rubare questo grande tesoro. Il patriarca allora pose gli oggetti su una pietra e gli disse «Questi simboleggiano solo la fede. Non serve a niente litigare per accaparrarseli. Se vuoi prenderli, fallo». Quando Mio si avvicinò per arraffarli, si accorse che erano pesanti come montagne. Tremando per la vergogna disse «Sono venuto a cercare l'insegnamento, non i tesori materiali». L'altro ribatté «Non pensare né al bene né al male. Qual è il tuo vero io?». A quelle parole il monaco fu illuminato. Piangendo domandò «Oltre a queste parole e al mistero che mi hai rivelato, c'è un significato più profondo?». Il patriarca rispose «Quello che ti ho detto non è affatto un segreto. Quando realizzi il tuo vero io, lì troverai tutta la profondità». Mio allora spiegò «Sono stato sotto il quinto patriarca per molti anni, ma non sono mai riuscito a realizzare il mio vero io. Ora, con il tuo insegnamento, so che come un uomo che beve acqua e da solo sa se è fredda o calda. So che adesso posso chiamarti il mio maestro». Il patriarca rispose «Entrambi chiameremo maestro il quinto patriarca. Stai attento al tesoro e tieniti stretto quello che hai ottenuto». Il sesto patriarca dimostrò quindi una gentilezza materna nell'aiutare il monaco. «Il vero io non può essere descritto, né ammirato. Non ha nessun posto per nascondersi, ma quando il mondo verrà distrutto, esso rimarrà intatto». Un monaco chiese a Fuketsu «Senza parlare e senza silenzio, come puoi esprimere la verità?». Lui rispose «Ricordo sempre la primavera terra nel sud della Cina e gli uccelli che cantavano tra gli innumerevoli tipi di fiori profumati». Fuketsu era solito avere un'illuminazione zen ogni volta che ne aveva l'opportunità, ma questa volta non ci riuscì e si limitò a prendere dei versi in prestito da una vecchia poesia cinese. Non offriva quindi parole proprie e se avesse continuato a chiacchierare, anche i suoi ascoltatori si sarebbero trovati in imbarazzo». In sogno, Kyozan si recò nella terra pura di Maitreya e si mise a sedere. Poi qualcuno annunciò che quel giorno avrebbe predicato proprio colui che era seduto in quel posto. Kyozan si alzò e disse «La verità dell'insegnamento mahayana trascende le parole e i pensieri». Il monaco predicò o no? Secondo Mumon, quando apre bocca è perduto. Se non la apre, lo stesso. Ma anche se la apre e la è molto distante dalla verità. Hogan stava per tenere una lezione prima di cena, quando notò che le persiane di bambù erano ancora abbassate. Le indicò e due allievi si alzarono dal pubblico per andare ad arrotolarle. Osservando il momento, lui disse «Lo stato del primo monaco è buono, quello del secondo meno». Quale dei due monaci guadagnò la fiducia di Hogan e quale la perse? Per Mumon, se qualcuno ha occhio, capirà in cosa ha sbagliato il maestro. Tuttavia, è bene stare in guardia dal discutere di guadagno e perdita. Un monaco chiese «C'è un insegnamento che non è mai stato predicato?» Quando Nansen rispose affermativamente, lui gli domandò quale fosse. Il maestro sentenziò «La verità è che non c'è la mente, non c'è Buddha e non ci sono le cose». Per fornire una risposta, Nansen ha dato via il suo tesoro di parole. Queste ultime in realtà non hanno potere. Anche se la montagna diventa mare, le parole non possono aprire la mente di un'altra persona. Una sera, Tokusan stava studiando con il maestro Ryutan. Quest'ultimo, resosi conto della tarda ora, invitò l'allievo ad andare a dormire e gli fornì una candela accesa per farsi strada nel buio. Proprio quando stava per prenderla in mano, Ryutan spense la fiamma. In quel momento, lo studente ebbe una realizzazione e sentenziò «Non dubiterò più delle parole dell'insegnante». Il giorno seguente, durante la lezione, Ryutan disse ai presenti «Vedo un monaco fra di voi, le cui zanne sono come gli alberi di spade. La sua bocca è come una ciotola di sangue. Colpitelo con un bastone ed egli non girerà nemmeno la testa per guardarvi. Un giorno o l'altro, lui scalerà la più alta delle vette e porterà lì il mio insegnamento». Tokusan portò le sue note sul Sutra del Diamante in cima alla scala. Le bruciò e sentenziò «Anche se avete imparato tutti i segreti del mondo, la vostra conoscenza è come una goccia d'acqua dispersa nel grande oceano». Poi, facendo un inchino, prese commiato dal suo insegnante e se ne andò dal monastero. Due monaci stavano discutendo riguardo ad una bandiera. Uno diceva che essa si muoveva, mentre l'altro sosteneva che fosse il vento ad agitarsi. Il sesto patriarca si trovò a passare di lì ed intervenne. «Non sono né il vento né la bandiera a muoversi, ma la vostra onorabile mente». I due litiganti tacquero in soggezione. Se si capisce l'intervento del maestro, si noterà che i due monaci, cercando di comprare ferro, trovarono l'oro. Il patriarca non poteva reprimere la sua compassione e per questo si è verificata quella scena. Daibai domandò a Baso «Cos'è Buddha?». Lui rispose «La mente è Buddha». Se qualcuno comprende pienamente le parole di Baso, sta indossando gli abiti di Buddha, sta mangiando il suo cibo, sta pronunciando le sue parole e si sta comportando come lui. In pratica è lui stesso un Buddha. Questo aneddoto però ha dato a molti allievi la malattia della formalità. Se uno capisce veramente, si laverà la bocca per tre giorni dopo aver pronunciato il nome del beato e si tapperà le orecchie dopo aver sentito che lui è la mente. Non c'è bisogno di chiedere in giro cosa sia Buddha. È come nascondere un bottino nelle tasche e dichiararsi innocenti. Un monaco itinerante chiese ad un'anziana donna la strada per Taizan, un tempio popolare che si supponeva donasse saggezza a chi lo venerava. La vecchia gli rispose di proseguire dritto e quando il monaco avanzò qualche passo, lei commentò che anche lui era un comune frequentatore di chiese. Quando Joshu venne a sapere di questo episodio, decise di investigare. Il giorno dopo chiese alla signora le stesse indicazioni stradali per il tempio e ricevette la stessa risposta data al monaco tempo prima. La donna capiva come si pianifica la guerra, ma non sapeva come le spie tendono a guati. Joshu fece il lavoro della spia, ma non era un abile generale. Ma qual era il senso di una investigazione? Il messaggio è che quando la domanda è comune, la risposta è altrettanto comune. Un filosofo non buddista chiese al Buddha, io non chiedo parole, io non chiedo non parole. Il beato si sedette e l'altro gli disse con ammirazione, con la tua grande misericordia hai eliminato tutte le mie illusioni e mi hai fatto entrare nel vero sentiero. Dopo queste parole si inchinò e prese congedo. Ananda allora chiese al maestro che cosa ha realizzato per ammirarti così tanto? Lui rispose un cavallo eccellente corre anche all'ombra della frusta. Ananda era il discepolo del Buddha, ma la sua comprensione non superava quella del devoto non buddista. Quindi che differenza c'è tra gli allievi del maestro e quelli che non lo sono? Un monaco chiese a Baso, cos'è Buddha? Lui rispose, nessuna mente, nessun Buddha. Se qualcuno capisce questo ha finito di studiare lo zen. Se incontrerà uno spadaccino gli mostrerà la spada. Quando si troverà di fronte ad un poeta gli offrirà dei versi. Quando parlerà dirà solo una parte di quel che voleva. Non bisogna mai divulgare subito tutto l'argomento. Nan Sen disse, la mente non è Buddha, la ragione non è la via. Secondo il commento di Mumon, Nan Sen con la vecchiaia non provò più vergogna ed espose il segreto della sua stessa casa. Tuttavia sono pochi quelli che apprezzarono la gentilezza di quel maestro. Gozo notò che Seijo aveva due anime. Una sempre malata a casa e l'altra di una donna sposata con due figli. Qual era la sua vera anima? Quando si capisce questo si saprà che è possibile uscire da un involucro ed entrare in un altro. Come se ci si fermasse per una sola notte in un albergo. Ma se non si riesce a comprendere, nel momento in cui terra, acqua, fuoco e aria si separeranno, ci si ritroverà come un granchio immerso in un liquido bollente, che lotta con le sue chele. Gozo disse che quando incontri un maestro zen sulla strada non puoi affrontarlo né con le parole né con il silenzio. Allora come si dovrebbe incontrare? Di fatto sarebbe preferibile un incontro più intimo, ma se non è possibile è meglio mantenersi attenti e guardinchi. Gozo disse che quando un bufalo esce dal suo recinto verso l'orlo dell'abisso, le sue corna, la sua testa e i suoi zoccoli passano tutte attraverso, ma la coda no. Perché? Secondo il parere di Mumon, se qualcuno a questo punto riesce ad aprire un occhio e a dire una parola di zen, è in grado di ripagare i quattro tipi di amore che hanno favorito lui stesso e tutti gli esseri senzienti sotto di lui. Se invece non può dire una parola di vero zen, dovrebbe tornare a riflettere su quella coda. Forse, per la prima volta, realizzerà qualcosa. Un monaco chiese a Joshu, perché il Bodhidharma è venuto in Cina? Lui rispose, una quercia in un giardino. Se si guarda chiaramente alla risposta di Joshu, ci si accorge che non c'è nessun Buddha Shakyayumi prima di lui e nessun Buddha futuro dopo di lui. Le parole non possono descrivere tutto quando si tratta di un messaggio del cuore. Non si raggiungerà l'illuminazione in questa vita, se si cerca di spiegare con il linguaggio. Hiakujo desiderava aprire un nuovo monastero e disse ai suoi allievi che sarebbe stato nominato maestro colui che avesse risposto più abilmente ad una domanda. Quindi appoggiò una bottiglia d'acqua per terra e domandò, se questa non può essere chiamata bottiglia, quale potrebbe essere il nome più appropriato? Il capo monaco rispose che non poteva chiamarsi Ceppo. Venne chiesta anche un'opinione al capo cuoco Isan, il quale rovesciò la bottiglia con il piede e uscì. Hiakujo sorrise, dichiarò che il capo monaco aveva perso e nominò il cuoco maestro. Isan era abbastanza coraggioso, ma non riuscì a sfuggire all'inganno di Hiakujo. Dopotutto aveva rinunciato ad un lavoro leggero per accettarne uno pesante. Aveva abbandonato gli utensili da cucina e sconfitto un capo monaco chiacchierone. Anche se il suo maestro gli aveva messo una barriera di fronte, i suoi piedi sono stati in grado di rovesciare tutto. Anche il Buddha. Bodhidharma era seduto di fronte al secondo patriarca che stava in piedi nella neve. Quest'ultimo si tagliò il braccio e piangendo disse. La mia mente non è ancora in pace, ti imploro pacificala. Lo farò se porterai la tua mente qui, rispose il monaco. L'ho cercata ma non riesco a trattenerla, spiegò l'altro. Vedi, ora è pacificata, sentenziò Bodhidharma. Il maestro hindù andò dall'India alla Cina percorrendo migliaia di miglia, questo perché sollevò le onde dove non c'era vento. Dopo essere rimasto anni in Cina ha avuto un solo valido discepolo, ovvero il secondo patriarca. Una volta Manjusri andò all'assemblea degli antichi Buddha, ma vi giunse quando era già terminata e tutti i partecipanti stavano facendo ritorno al proprio luogo di origine. Era rimasta solo una ragazza, seduta in meditazione vicino al trono. Manjusri, quindi, chiese a Buddha Shakyamuni perché a lei fosse permesso di essere così in prossimità, mentre a tutti gli altri non era concesso. La risposta fu, falla uscire dal suo stato meditativo e chiedilo direttamente a lei. Manjusri provò a seguire il consiglio, ma nonostante gli sforzi non riuscì ad avere l'attenzione della giovane. A quel punto, Buddha Shakyamuni intervenne, dicendo che le persone come lui non avrebbero potuto disturbarla, ma il bodhisatta Momyo ci sarebbe riuscito. Quest'ultimo emerse subito dalla terra, schioccò le dita e fece uscire la ragazza dalla sua meditazione. Secondo il parere di Mumon, Shakyamuni creò un piccolo dramma. Com'è possibile che Manjusri, il monaco di sette Buddha, non sia riuscito nel proprio intento mentre un bodhisatta sì? Nessuno dei due è un buon attore, uno indossa la maschera di Dio, l'altro quella del diavolo. Se qualcuno è in grado di capire questo intimamente, potrà entrare nella grande meditazione. Shuzan tese il suo bastone corto e disse ai suoi discepoli, se questo lo chiamate bastone vi opponete alla sua realtà, ma se non lo chiamate così, ignorate il fatto. Quindi qual è il termine che userete? In pratica le parole non sono accettate, così come non lo è il silenzio. Bascio disse ai suoi discepoli, quando avrete un bastone vi darò un bastone. Quando non lo avrete, ve lo toglierò. In base al commento di Mumon, il bastone è d'aiuto per attraversare un fiume quando si sta rincasando di notte, ma se lo chiami così, entrerai all'inferno. Hoen disse che i Buddha passati e futuri sono servitori. Ma di chi? Se qualcuno se ne rende conto, sarà come incontrare il proprio padre in una strada trafficata. Non c'è bisogno di chiedere a nessuno se il riconoscimento sia vero o meno. Sekiso chiese, come si fa ad andare oltre la cima di un palo alto 30 metri? Un maestro zen gli rispose, chi si siede su quella sommità ha raggiunto una certa altezza, ma non sta ancora gestendo liberamente lo zen. Dovrebbe proseguire e apparire con tutto il suo corpo nelle dieci parti del mondo. Secondo Mumon, una persona giunta alla cima può decidere se proseguire o meno, e in ogni caso dovrebbe godere di rispetto. Ma volendo, come si farebbe ad andare oltre? L'uomo al quale manca il terzo occhio dell'intuizione si aggrapperà alla misura dei 30 metri, salterà da lì e si ucciderà come un cieco che inganna altri ciechi. Dosotsu stabilì tre barriere per i suoi seguaci. La prima è lo studio dello zen, dove lo scopo è vedere la propria vera natura. Qual è la tua ora? La seconda barriera è che, una volta realizzata la propria natura, si otterrà la libertà dalla nascita e dalla morte. Ma quando la tua vista ti abbandonerà, come potrai essere libero davvero da ciò? La terza barriera è conoscere la tua ultima destinazione. Quando i quattro elementi si separeranno, dove andrai? Chiunque riesca a superare queste barriere sarà un maestro ovunque si trovi, in qualsiasi circostanza. Altrimenti, ascolta. Se mandi giù in fretta il tuo cibo, ti riempirà facilmente, ma se lo mastichi bene, può sostenerti. Un allievo zen chiese. Tutti i Buddha delle dieci parti dell'universo entrano nell'unica strada diretta al nirvana. Ma da dove parte? Kempo rispose alzando il proprio bastone da passeggio e disegnando il numero uno nell'aria. Lo studente pose la stessa domanda ad Unmon. Quest'ultimo, che per caso aveva un ventaglio in mano, disse. Questo ventaglio raggiungerà il trentatreesimo cielo e colpirà il naso della divinità che lo presiede. È come la carpa drago del mare orientale che rovescia la nuvola di pioggia con la coda. Mumon fa notare che un maestro, scendendo sul fondo del mare, alza in alto nubi di polvere. L'altro, sulla cima della più alta montagna, scatena torreggianti onde per lavare il cielo. Entrambi protendono la mano per sostenere il proprio insegnamento. Sono proprio come i due cavalieri che partono da punti opposti della corsa e si incontrano a metà. Tuttavia, nessuno di loro conosce la strada. Anban, studente laico di Zen, disse. Mumon ha appena pubblicato un libro, criticando le parole e le azioni dei vecchi patriarchi. Penso sia molto malizioso. È come un vecchio venditore che cerca di attrarre l'attenzione dei passanti per far ingoiare loro le sue ciambelle. Ma i clienti non possono né mangiarle né sputarle e questo causa sofferenza. Mumon ha infastidito tutti a sufficienza e mi chiedo se lui stesso possa digerire bene le proprie ciambelle. Se non ci riesce, bisognerebbe metterle in padella con le altre e cuocerle di nuovo. Lui, tuttavia, dovrebbe assaggiarle per primo. Secondo un sutra, Buddha disse. Fermati, fermati, non parlare. La verità ultima non è nemmeno da pensare. Come mai non si può nemmeno pensarla se qualcuno di fatto ne ha parlato in passato. Da dove viene questo cosiddetto insegnamento? Si appaiono altri maestri come Mumon e fanno inutili ciambelle infastidendo la gente. Cosa bisogna fare? Adesso ve lo mostro. Amban uni i palmi delle mani e disse. Fermati, fermati, non parlare. La verità ultima non è nemmeno da pensare. Ora farò un piccolo cerchio sul sutra con il dito e aggiungerò gli altri 5000 sutra del libro La Porta Senza Porta. Se qualcuno vi dice che il fuoco è luce, non fateci caso. Quando due ladri si incontrano, non hanno bisogno di presentazioni. Si riconoscono senza fare domande. Nel suo ultimo giorno di vita, Tanzan scrisse 60 cartoline postali e incaricò un suo assistente di spedirle. Poi morì. Sulle cartoline c'era scritto, sto per andarmene da questo mondo. Questo è il mio ultimo annuncio. Tanzan, 27 luglio 1892. Un contadino era diventato così vecchio da non poter più lavorare nei campi. Così trascorreva la propria giornata seduto in veranda. Suo figlio, che ancora lavorava alla fattoria, di tanto in tanto lo guardava e pensava che non avesse più utilità. Un giorno, frustrato per quei pensieri, il giovane costruì una barra di legno. La trascinò sotto il portico e disse a suo padre di entrarci dentro senza fare domande. Quest'ultimo ubbidì. Dopo essere stato rinchiuso dentro, venne trascinato fino ai confini dei propri terreni, dove c'era un alto dirupo. Mentre si avvicinava al precipizio, decise di bussare levemente sul coperchio di legno per farsi aprire. Poi, guardando negli occhi il figlio, disse. So che mi butterai giù, ma se posso permettermi di darti un consiglio, ti suggerirei di salvare questa buona barra di legno. I tuoi figli potrebbero aver bisogno di usarla. Uno studente chiese. Sono devoto allo studio delle arti marziali. Quanto mi ci vorrà per imparare? Il suo insegnante rispose. Se sarai impaziente, ci impiegherai dieci anni. L'allievo rispose. Ma io voglio padroneggiarlo più velocemente di così. Lavorerò duramente. Mi eserciterò con costanza. Anche per più di dieci ore al giorno, se devo. Il maestro ribatte. Allora ti ci vorranno circa venti anni. Tetsugen, un fedele seguace giapponese dello Zen, decise di pubblicare il sutra nella propria lingua, visto che a quel tempo erano disponibili soltanto in cinese. Tuttavia, si trattava di un'impresa enorme, perché i libri dovevano essere stampati con blocchi di legno in un'edizione di 7.000 copie. Il discepolo si mise quindi in viaggio per reperire i finanziamenti necessari. Tranne alcune eccezioni, riuscì ad ottenere soltanto piccole somme. Lui ringraziò tutti i benefattori con uguale gratitudine e dopo dieci anni racimolò il denaro necessario. Proprio allora il fiume Oji straripò e l'alluvione portò ad una carestia. Tetsugen utilizzò i soldi raccolti e li spese per salvare gli altri dalla fame. Poi ricominciò la sua colletta. Parecchi anni dopo, il paese fu colpito da un'epidemia e ancora una volta il discepolo spese i soldi accumulati per aiutare la gente. Si mise al lavoro per la terza volta e dopo vent'anni riuscì finalmente a realizzare il suo desiderio. I blocchi di legno per la stampa che erano serviti per la prima edizione sono oggi esposti nel monastero Obaku di Kyoto. I giapponesi dicono ai loro figli che Tetsugen ha realizzato tre raccolte di sutra e che le prime due, invisibili, sono persino superiori alla terza. Gesen era un monaco conosciuto come artista d'accagno perché aveva prezzi molto alti e richiedeva di essere pagato in anticipo prima di mettersi a disegnare. Un giorno una geisha gli commissionò un dipinto. Non mise nessun limite al prezzo ma richiese che lui dipingesse davanti a lei. Gesen fece quanto chiesto durante una festa che lei aveva organizzato per il suo ricco protettore. Quando finì la tela chiese la cifra più alta di quel tempo e ricevette la somma. Rivolgendosi al suo protettore la donna disse «Quest'artista non vuole che il denaro, i suoi quadri sono belli ma la sua mente è così sporca che quest'opera non è degna di essere esposta, è a malapena data per una delle mie sottovesti». Detto questo si tolse l'abito e chiese a Gesen di dipingere sul tessuto. Di nuovo alla richiesta di prezzo non pose nessun limite. Lui eseguì e ottenne la cifra spropositata che aveva richiesto. In seguito si seppe che Gesen era tanto abito di denaro perché spesso la sua provincia era afflitta da una terribile carestia e i ricchi non aiutavano i poveri. Così lui, per affrontare queste emergenze, raccoglieva grano e lo conservava in un magazzino segreto. Voleva anche ricostruire la strada che collegava il suo villaggio al santuario nazionale e che versava in pessime condizioni. Infine desiderava realizzare il volere del suo defunto maestro di costruire un tempio. Appena Gesen riuscì a realizzare questi tre obiettivi, buttò via i pennelli e gli attrezzi da pittore. Si riterò sulle montagne e non dipinse mai più. Nissan chiese ad un suo giovane allievo di prendere un secchio d'acqua per rinfrescare quella già presente nella vasca. Dopo aver eseguito, lo studente gettò a terra il liquido che avanzava. Il maestro allora lo rimproverò. Sei un somaro, avresti potuto innaffiare quelle piante invece di sprecare così l'acqua, che è un bene vitale. Grazie a quell'insegnamento, il ragazzo arrivò a completare la sua formazione da discepolo. Cominciò a insegnare e si fece chiamare Tekisui, che significa una goccia d'acqua. Un giorno, mentre stava affrontando il viaggio di ritorno verso casa, un giovane buddista giunse sulle rive di un ampio fiume. Riflette per ore su come attraversarlo, ma proprio quando stava per arrendersi, vede un maestro sulla sponda opposta. Il ragazzo chiese subito aiuto. «Oh, saggio, puoi dirmi come arrivare all'altra riva di questo torrente?» L'insegnante, dopo aver meditato per un momento, rispose. «Figlio mio, sei già dall'altra parte». Da giovane, Ikkyu ruppe per sbaglio una preziosa tazza da tè del suo insegnante. Appena lo sentì arrivare nella stanza, nascose i cocci dietro la schiena, per non essere colto in flagrante. Poi chiese «Perché le persone devono morire?» Il maestro rispose «Questo è il corso naturale della vita. Tutto deve morire, anche se sia troppo tempo da vivere». Ikkyu, mostrando la tazza rotta, disse furbescamente. «È arrivato il momento per la tua tazza di morire». Tosui fu il maestro Zen che lasciò il formalismo dei templi per vivere sotto un ponte con i mendicanti. Quando stava diventando molto vecchio, un amico lo aiutò a guadagnarsi da vivere senza chiedere l'elemosina. Gli mostrò come raccogliere il riso e da esso ricavarne l'aceto. Lui continuò a seguire tutti gli insegnamenti anche dopo la morte dell'amico. Mentre stava facendo l'aceto, uno dei mendicanti gli diede una foto del Buddha. Tosui l'appese al muro della sua capanna e di fianco mise un cartello con questa frase. «Oh Buddha, questa stanzetta è piuttosto stretta per entrambi. Posso lasciarti fuori, in maniera tale da non farti credere che ti stia chiedendo di aiutarmi a rinascere nel tuo paradiso». Uno studente chiese aiuto al proprio insegnante. «La mia meditazione è orribile. Mi sento distratto o mi fanno male le gambe, oppure capita che mi addormenti». Lui rispose «Tranquillo, passerà». Una settimana dopo l'allievo comunicò grandi miglioramenti. «Avevi ragione, la mia meditazione è meravigliosa. Mi sento consapevole, pacifico e vivo». Il maestro allora ribatté. «Tranquillo, passerà». La bellissima Shunkai fu costretta a sposarsi giovane contro la propria volontà. Quando il suo matrimonio finì, frequentò l'università. Qui si innamorava e faceva innamorare chiunque la vedesse. Quando lo studio della filosofia non le bastò più, andò in un tempio per imparare lo Zen. Persino lì gli studenti erano attratti da lei. La sua intera vita era colma d'amore. L'abate del luogo, Mokurai, era molto severo e pretendeva disciplina e rispetto per le regole. Nel Giappone di oggi, tutto lo zelo per il buddismo che questi preti hanno perso, pare l'abbiano acquistato nel prendere moglie. Quando Mokurai trovava queste donne in uno dei suoi templi, le cacciava, ma ne arrivavano sempre di più. In uno dei monasteri, la moglie del prete principale si ingelosì della bellezza e della sincerità di Shunkai. Sentir decantare dagli studenti la sua serietà la adirava. Quindi cominciò a raccontare bugie su di lei, alludendo ad una sua storia romantica con un giovane. Il risultato fu che lui venne espulso e lei fu trasferita altrove. Io avrò commesso un peccato d'amore, pensò Shunkai, ma se il mio amico deve subire un trattamento così ingiusto, nel tempio non dovrebbe andarci nemmeno la moglie del prete. Quella stessa notte, con un bidone di petrolio, diede fuoco all'antico edificio. La mattina dopo, la polizia l'arrestò. Un giovane avvocato si interessò al suo caso e si prodigò per farle avere una condanna a mite. Non mi aiuti, disse lei. Potrei decidere di fare qualcosa di ancor peggiore. Dopo aver scontato sette anni di carcere, Shunkai venne trattata come un avanzo di galera. Nessuno voleva più avvicinarla, nemmeno gli adepti dello Zen, che dovrebbero credere nell'illuminazione in questa vita e con questo corpo. Scoprì così che lo Zen e i suoi seguaci erano due cose diverse. Era debole, ammalata e cade in miseria. Morì appena trentenne, ancora bellissima. Nel vano tentativo di guadagnarsi il pane, scrisse un libro sulla propria vita. Così il popolo giapponese conobbe la sua storia. Tutti coloro che avevano respinto Shunkai l'avevano calunniata e odiata, lessero le sue vicende con lacrime di rimorso. Grazie per aver ascoltato questi racconti fino alla fine. Scrivi nei commenti quale ti è piaciuto di più e ricorda di iscriverti al canale per continuare ad ascoltare il maestro. Ti aspetto al prossimo video. Butta ti benedice!